Aschi Che fatti? E' agito, sei un'uomo Eeeh Oh, che scala è già A stare sui E' lungo C'è dubb, c'è dubb Ninja non da faccio Ma Meno a concussione esploda Perciò nemmeno, preferisce la morte Sì, sì, vai 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 Aiuto Ma... assist per i membri Ha fatto, ha cinto Ok, basta, sopra Ok, basta, sopra E' tornando almeno in questa zona E' preso E' eliminato tutti i nemici Krakow E' rimasto Guccino HP, e' rimasto Guccino HP Oh, i fatti E' diventato affair in base E' diventato affair in base E' un'altra C'è un'altra Oh, i vedi Vedi la testa, vedi Perciò una granata Ch'è un bamburista C***o oh io ho piaccato tutto cioè no forse, tutto voglio almeno c'è non l'ho già visto che la tarda ci togliamo attenzione, Aldo stanno tronando io nooo qua è stato my bad, però mi ce l'ho tolgo no mi ce l'ho tolgo no mi ce l'ho tolgo si, qua ho sbagliato io, ma che se mi è scato si lo so, è scato il giallo è per qualcuno lì ok è morto, refrost no ca no refrost, dai, non ha frost deve scato il giallo è smoke l'ultimo colpo non c'è, forse sta in droga si no, collegamento di qua no eccolo ha sfottato pink giallo allora let's go la squadra di attacco ha eliminato i difensori no, ero Warden no, te ne... allora è east tu costa senza in mano, questo, ma va bene no, non 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 che ha fatto la botola la 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 ok non 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 ci non 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 mh uh oh oh io ho delle no, questo è venuta pure eh, io ho mirato scherzo giallo era il bomba di top ok, guide morto il limico rimasto mmm... allora, no ciao youtube però andata, però andata però andata sta youtube non ci fai inna Sì, ma stiamo calmi. Stavo non so, non so. Non so, non so. Non so. Non so, non so. Stavo a giocando il gioco. C'è ma... C'è pa. Stavo a giocato da spedì. Stavo a giocato da spedì. Stavo a giocato da spedì. Cosa? Oh no, no, no. Non so, non so. Non so, non so. La squadra d'attacco ha eliminato i sensori. 14-1. Questa è da caricare tutto sul colpo. C'è YouTube. C'è YouTube. C'è YouTube. Carica! Caricatore! 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 C'è parte lì? Eh no, stai sempre lì! Venga, uno in scala. Oh, è vicino, vicino. 25-8. Non so, è vicino. Perciò c'è... Waspendo il risultato. There! I- I- Ama, uno in на la linea. GAMERUX. Oh, è vicino. Oh, è vicino! Cosa? E' vicino! Ave έχει un visco. Ok 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 Sorry Banna Banna? Ah I just opened Caveira behind Yeah Ok I defensori hanno eliminato tutti i nemici Ok 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 Also Ok Ah C No Oh, sto vivo, Doc l'hanno qua, giusto? Sta fatta capire, mira, è una bomba B C'è uno G, guarda Guarda, 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 guarda Ah, non so, Cristiano 2 Eh, Doc sopra il coso? Eh, l'hanno qua Ho ferito, però penso che è sciso Ma pensi che è sciso? No, sta ancora là Ah, lo so, vuoi verso l'altra? Sì, mi locko Ma ma, che non è ricordi? Oh, trasp, trasp Che sono i dispositivi L'agere di la tre Serito Inserimento di Apri La cioto a te No, chè No, cosa faccio? Morto Jager, tra la siete e plan da Haγ, hai visto il plan? Ho scegato un danne, ento Ma dove l'è, uno per sei strato Non pensi che è scoperto Tutti costi, l'ultimo nemico è rimasto Oh, barocca è luce, oh no è doppio Ciao youtube, ciao youtube Ok, ok Ciao dici Ok 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 Occhio, la squadra d'attacco ha trovato una bomba Sei la tratta principale, Enzo Ok Non so, mi sentiamo come pucine Ah, ok, mi hanno detto Occhio, la squadra d'attacco Buonas Vittoria alla difesa, nemici eliminati No, stai facendo un'attacco Oh, ma quanto è luce? Stai morto, eh Si, si zaga l'altra Sì Faccio riuscire Lo sento, lo sento Statermite sulla finestra Statermite sulla finestra No, ultimo nemico rimasto E qui c'era, cazzo stanno Se ne troppate Nel corridoio Statermite Nel corridoio